Tu sei stato dove io sono ora. Aiuto! Sono un uomo d'onore! Stanotte però non sai nessuno. Kuda, quando sei uscito? Non c'è spazio per la pietà. Ciao! Andiamo. Ti sei fatto un nome per le tue risse di strada. Io ero come te. Una combattente. Sono venuti a prenderti. Il mentor è il suo protetto. Vuoi dirmi di che si tratta? Debiti di gioco. Ridammi la mia borsa, ladra! Signora, signora, aspetti. Come ti chiami? Billy. Da dove vieni? Atlanta. Sei molto lontana da casa. Porti qui tutti i tuoi ragazzi? Sì, li porto tutti qui. Tu hai figli? Una figlia. Alla tua età. Cosa hai detto che fai? La camera è pagata fino alla fine della settimana. Abbi cura di te. Non hai dormito stanotte? Ho incontrato una fuggitiva. Le ho dato dei soldi, l'ho portata in un hotel e ora è scomparsa. Credo che tu non possa fare niente. È la figlia di qualcuno. Lei dov'è? Quella è gente pericolosa. Non posso lasciarla lì. Ha 15 anni. Va tutto bene. Chi è il tuo amico? È una fabbrica di soldi. Oh, è molto più di questo. So che tipo di mondo c'è là fuori, l'ho visto, lo conosco. Proprio come quelle ragazze. E sono sopravvissuta. Mi hai incastrata! Mi fidavo di te. Sono venuto qui per salvarti. Non ho niente a che fare con questo. Invece hai molto a che fare con questo. Invece hai molto a che fare con questo.